Prendere il filo Allora setting Vediamo come funziona questo Controll Sulla solo col mouse Sono 17.50 Facciamo fino alle 6 Brume? Alto? Basso? Ah questo non capisco come Grazie go Non lo fa fare Ok Ah buono? Ok Buono 5 tonchio Ah non posso schifare Sto fin da me 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 No Ok, tutto da Che non mi fa fare con la tua missione Non si funziona il padre No, 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 sì che funziona Ok Ah, sono scaldi che bello Come si spara? Boh, non capisco come si spara Andiamo tutto, va Ah, con questo ho trovato il tasto Ah, c'è il dash Ah, questo Ah, questo Non si non Ah, non si non Ti piace Funko? Ah, ma questo è solo il tutorial Il suonaggio è puccioso Ok Ok Ah, adesso posso giocare? No No Esattamente Più di bello No 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 Grazie a tutti. 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 No... 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 Ok No No che è tutto? no, che ho detto perché si blocca? pizza pizza time come una pizza ok go ah sono rimasti senza armi cavolo i pugni non so se ha le munizioni fanco e qua non mi segue voglio vedere se c'è mannaggia potrei tornare indietro magari si può creare munizioni potremmo mettere i pugni però se finire le munizioni sono morto ma dai questa però è una cosa butta che hanno fatto del gioco tasti? no mmm sto colgando se può picchiare ma guarda su colgashi mi vado addosso no no c'è niente ne sono morto calucci però è il difetto che le mani si esse munizioni questo cavolo non mi faccio niente vabbè vabbè vabbè